di 2 maggio 2016 siamo a via madonelle 19 bis seconda entrata del rione sapio guardate là che erbaccio che ci sta ovviamente sarà denunciato guardate qua che cosa hanno scaricato di tutto come potete osservare guardate qua guardate che ci sta qua dietro questa è roba già che è stata parecchio tempo quindi non vi dico e guardate qua uno schifo la guaina che è stata tre mesi è qualcosa combattiamo e non ce la rendiamo